Il ministro Piantedosi che chiaramente coinvolge la prefettura, la questura, tutte le forze dell'ordine che è partita da tre città molto importanti, quindi Roma, Napoli, Milano con una presenza a tappeto di controlli insieme di tutti i nostri corpi che sta dando ottimi risultati. Oltre 40.000 persone sono state controllate a partire dallo scorso 16 gennaio in queste tre stazioni delle principali città metropolitane e italiane con anche identificazione di reati, di responsabili, espulsione di 115 stranieri irregolari e responsabili di fatti di illegalità e crediamo che sia un modo molto concreto di tornare a far vivere ovviamente un luogo centrale come la stazione in città importanti, come Milano, come Roma, come Napoli importanti ovviamente per le tante persone che usufruiscono dei servizi e per i tanti turisti che arrivano di tornare a far vivere pienamente questi luoghi, di dare il segnale a una presenza continuativa dello Stato non sono iniziative spot, è un lavoro che intendiamo portare avanti abbiamo parlato anche con il sindaco di Milano ragioniamo insieme di come dare una continuità anche nella presenza di strutture che possano far vivere meglio i luoghi attorno alle aree della stazione qui a Milano ma vale la stessa cosa per le altre città e quindi comincia un lavoro quotidiano e molto serio di recupero della presenza delle istituzioni nei luoghi di maggiore partecipazione, di maggiore densità che possa tornare a far percepire il valore della sicurezza come precondizione di libertà è una promessa che abbiamo fatto e con serietà, abbastanza in silenzio ma insomma con dedizione ci stiamo dedicando molto a questo lavoro è stato opportuno o hanno sbagliato i deputati Don Zelli e Del Mastro a dare informazioni sensibili nel dibattito politico in aula? guardi mi pare che le informazioni sensibili che sono state utilizzate nel dibattito politico in aula fossero già sui quotidiani e che non fossero coperte da segreto quindi ho già risposto a questa domanda per come la vedo io poi non mi permetto di giudicare il dibattito lei pensa che ci sia bisogno di dimissioni? no, ho già risposto su questo, non penso che ci sia bisogno di dimissioni la procura ha fatto il suo lavoro, il ministero fa il suo lavoro e quindi vedremo che cosa ci dirà il ministero della giustizia ha più volte detto che quelli non erano documenti coperti da segreto tant'è che, ripeto, erano a conoscenza di buona parte della stampa che ne scriveva ampiamente da qualche giorno e quindi io non ho ragione francamente di dire che quello che sta sulla stampa non si possa utilizzare anche in Parlamento poi vedremo che cosa la procura dirà è un metodo di dibattito politico che approva? intanto, diciamo, attualmente non faccio parte del dibattito parlamentare quindi lei capisce che per me da esponente del governo diventa anche un po' curioso mettermi a sindacare quello che i parlamentari possono dire, no? su questo c'è, diciamo, una differenza dopodiché io posso condividere o non condividere i toni posso condividere o non condividere, diciamo, quando il dibattito si scalda troppo in questo caso ho detto che cosa ne penso penso che non sia intelligente in assoluto per nessuno che le istituzioni si dividano su una materia come questa perché è un tema, è un momento particolarmente delicato per cui magari io l'avrei fatto con altri toni se fossi stata ancora, diciamo, in Parlamento a fare il segretario di partito ma da questo a dire che siano utilizzati documenti che non potevano essere utilizzati questo è stato smentito e quindi il tema delle dimissioni è un tema che secondo me non c'è in questa cosa poi ci sono le cose più opportune e le cose meno opportune guardi, se devo parlare al segretario di partito vuole che io le ricordi di che cosa sono stata accusata negli ultimi dieci anni dai miei avversari politici? e tante volte ho posto il problema perché c'è quando magari uno si lascia un po' andare questo sicuramente se mi fate una domanda per volta altrimenti è difficile rispondere no, nel senso io ho chiesto a tutti di abbassare i toni e quindi ribadisco questo vale anche e soprattutto per gli esponenti di Fratelli d'Italia sono contenta che si faccia attenzione a questi toni nel dibattito politico al rispetto degli avversari perché diciamo in altri tempi non ho visto la stessa sensibilità Presidente Blumberg, qual è la sua posizione in merito all'offerta di KKR guardi il dossier è un dossier molto complesso è un dossier sul quale ovviamente siamo molto attenti e lei sa che trattandosi di azienda quotata in borsa è bene essere molto prudenti però è un dossier che stiamo con molta attenzione e molta quotidianità seguendo e presto immagino che avremo delle informazioni chiare da dare Presidente si parla spesso dell'insufferenza di Berlusconi e di Forza Italia in generale è preoccupata da questo punto di vista? No, non sono preoccupata da questo punto di vista penso che oggettivamente sia normale che anche all'interno di maggioranza ci siano dei dibattiti ma io penso al ministro Piante Tosi mi attestimone noi viviamo un clima quotidianamente che è molto diverso anche da quello che se mi consentite leggo che io con Matteo Piante Tosi li dico tutti i giorni con Carlo Nordio non ne parliamo gli metto un bavaglio ogni tre giorni quando non tiro fuori la frusta con Giorgetti li dico con Salvini li francamente io devo dirvi non ci crederete ma non è quello che viviamo noi insomma c'è un ottimo clima e penso che guardi la misura alla fine della compattezza delle maggioranze nei governi è data dalla velocità con la quale quei governi riescono a operare quando tu non ce la fai è perché obiettivamente non hai una coesione quando tu decidi noi abbiamo fatto una legge di bilancio in dieci giorni l'abbiamo portata diciamo all'approvazione nei tempi previsti e questo vale per tutti i provvedimenti che il governo ha portato avanti quindi al di là della dialettica o per carità insomma dei dibattiti che sono normali mi pare che ci sia una forte coesione Presidente il Sindaco Sala ha lanciato un appello ieri il Sindaco Sala ha lanciato un appello sui mancati trasferimenti del governo al comune di Milano e ai comuni in generale c'è stata qualche rassicurazione da parte di voi? ma guardi allora sui mancati trasferimenti ai comuni in generale il governo ha fatto quello che ovviamente poteva fare in questa situazione che non è sicuramente una situazione facile quindi non torno sulle materie della legge di bilancio ma davvero non avremmo potuto fare di più per quello che riguarda la materia specifica di Milano io e il Sindaco ne abbiamo parlato chiaramente per me il tema del trasporto pubblico locale che sia Milano o che sia Catania è un tema importante perché i cittadini devono il più possibile poter usufruire dei loro servizi delle istituzioni e delle amministrazioni e quindi ho assicurato al Sindaco Sala che cercherò di fare il mio meglio per dare una mano Presidente ha detto della nota di Palazzo Chigi oltre a condannare le violenze espresse dagli anarchici nelle manifestazioni di questi giorni non ho capito mi perdoni se mi puoi è stata secondo lei un'unità politica nel condannare le violenze espresse dagli anarchici nelle manifestazioni di questi giorni contro 41 bis e in difesa di cospito? beh sicuramente mi pare che non tutti abbiano la stessa sensibilità nel senso io ho visto anche tanti che dicevano ho letto addirittura ricostruzioni francamente insomma a mio avviso lunari che dicono che di fronte comunque a auto che saltano dei funzionari dello Stato eccetera il governo faccia un allarmismo su un pericolo che non esiste per magari giustificare in futuro provvedimenti di restrizione delle libertà io non so in quale film di fantascienza alcuni vivano penso semplicemente che su alcune cose le istituzioni sarebbero invece no compattamente insomma dire da che parte si deve stare e sicuramente su questo ci sono sensibilità diverse ma questo non cambia la mia sensibilità la sensibilità del governo, dello Stato su questa materia credo che come ho detto insomma uno Stato serio, normale non debba scendere a patti con chi lo minaccia e questo vale per tutti, vale per la mafia ieri e vale per gli anarchici oggi se gli anarchici pensano che facendo saltare le auto di qualcuno lo Stato indietreggerà, non sarebbe un buon segnale Ma io spero di no, insomma non credo spero di no, ovviamente noi stiamo monitorando facciamo il nostro lavoro, facciamo del nostro meglio per ovviamente prevenire dove possibile i fenomeni però rispetto, penso che la postura complessiva delle istituzioni in questo possa fare la differenza che non bisogna fare l'errore di pensare che magari diciamo per fare politica e ripeto lo dico a tutti a 360 gradi si debba utilizzare un tema del genere perché è molto delicato ecco, è molto delicato non voglio fare allarmismo ovviamente voglio solo dire è importante che tutti focalizziamo insomma no da che parte è giusto stare Presidente, al netto della nota di Palazzo Chigi sulla vicenda a Fazzolari il caso è chiuso, se di caso si può parlare oppure c'è qualche cosa guardi il caso lì il caso secondo me è un altro se posso dire è che io ritengo che questa cosa non sia mai esistita Fazzolari dice che questa cosa non l'ha mai detta e quindi voglio dire non capisco il senso cioè si dà una notizia su una cosa che diciamo poi sono no, ognuno dice la sua però quando viene smentita da tutti gli interessati forse uno ne dovrebbe prendere atto invece qui si continua a parlare di cose che potrebbero non essere mai esistite oppure ci si deve dare l'evidenza del fatto che quelle cose siano esistite per cui per me il caso non esiste poi per carità ognuno cerca di fare al meglio il suo lavoro ma nessuno ha mai pensato neanche lontanamente una cosa come quella che è stata attribuita al sottosegretario Fazzolari quindi a me non pare una notizia sinceramente da continuare a commentare grazie e buon lavoro grazie a tutti grazie a tutti